Al Teatro Olimpico le prove del concerto per festeggiare i 1600 anni della nascita di Venezia rappresenta il culmine di una serie di eventi in corso in questi giorni per ricordare i Natali gloriosi della Serenissima. Chiude una delle maggiori celebrazioni dell'anno nei 1600 anni di Venezia e lo facciamo con questo concerto qui al Teatro Olimpico con la presenza di un illustre ospite direi di livello internazionale che è il maestro Wayne Marshall. I Natali celebrati sono quelli di Venezia perché si è scelto proprio Vicenza in questa occasione? Il fatto della candidatura di Vicenza capitale della cultura nel 2024 per noi è un obiettivo che va perseguito, aiutato e portato a casa. Quindi metteremo un ulteriore tassello di quello che Vicenza riesce a fare e a produrre nell'ambito culturale. Tra l'altro questo spettacolo sarà ripreso da una rete internazionale che si occupa d'arte e che poi lo rimanderà in Italia, in Francia, nell'Europa centrale e Germania, Paesi Bassi soprattutto e quindi anche un momento di promozione della cultura veneta e di Vicenza per anche far magari arrivare qualche persona incuriosita del fondale al Teatro Olimpico. Un organo wonder, il più grande al mondo è quello montato all'Olimpico. Wayne Marshall ha scelto uno dei brani più noti ma anche più difficili da eseguire anche per l'orchestra. Il concerto di Francis Boulenc per organo, orchestra, archi e timpani, una vera sfida per tutti. È fascinante di poter suonare in un posto come questo che mai ha suonato a Vicenza in Teatro Olimpico ma la cosa più bella è che c'è un organo trasportabile, modulare e che ha fatto possibile il maestro Paolo Oreni, un grande virtuoso italiano e ha dato una mano per fare possibile questo concerto. Sarà un'esperienza unica, proprio posso dire per l'umanità, perché è un organo a canne che viene riportato nelle sue origini, l'organo a canne nato nel Teatro Greco e giustamente questa sera in questo concerto che sentirete l'organo a canne tornerà a vivere nella sua vera casa che non è la Chiesa ma il teatro antico.